Tifosa da sempre, imprenditrice che negli ultimi anni ha sempre sostenuto le vicende del calcio di Cerignola, Antonietta Ladogana nei giorni scorsi, ha accettato anche di ricoprire un incarico ufficiale nell'Audace ed è stata nominata vicepresidente del suo dalizio Fantino. Alla fine di questa stagione la società ha cercato di coinvolgere un po' le persone di Cerignola per rendere ancora più ambizioso il progetto. Mi è stato chiesto di ricoprire questo ruolo in rappresentanza di tanti amici sponsor cerignolani e quindi non mi sono tirato indietro perché comunque per me l'Audace è da sempre una grande passione, qualcosa di bello per la nostra città. Il Cerignola del mio presidente Danilo Quarto ha intenzione di iscriversi alle squadre che lotteranno per la promozione in Serie C. In città già c'era tanto entusiasmo per il girone di ritorno che è stato fatto, quindi poi con l'arrivo del presidente Quarto che è comunque una persona molto passionale ed in questo è molto simile a noi tifusi cerignolani, sportivi cerignolani. E quindi in questo modo fa piacere e comunque non dimentichiamo neanche il supporto della famiglia Grieco che anche se in qualità di sponsor maggioritario sono i primi tifusi dell'Audace. Sarà un anno bellissimo secondo me. L'ingaggio del promettente centrocampista Manuel Botta classe 2002 si è aggiunto a quelli del terzino mancino sempre juniors Medido Orvalde, l'esperto difensore Alex Siria e del centrocampista Dario Giacomarro di questo elenco. Presto farà parte anche il trequartista Salvatore Mincica. Importantissime pure le conferme di cinque pedine fondamentali nello scacchiere di Michele Pazienza come Nicolalo Iodice, Giancarlo Malcore, Ismail Aschik, Gimiele Grini e Luigi Manzo. A me e ad altri anche tifosi fa piacere che c'è stata questa conferma di tanti ragazzi che hanno disputato già un ottimo campionato nella passata stagione. Quindi è importante non disperdere il lavoro precedente che è stato fatto e credo che in questo sia un bel punto di partenza anche con i nuovi acquisti. E comunque dobbiamo fidarci dello staff tecnico che ha dimostrato di saper far bene il proprio mestiere. Il Cerignola punta in alto ed è pronto per accogliere nuovamente i tifosi sugli spalti del Monterisi. I tifosi devono stare vicino alla società che comunque nonostante questa pandemia che ha messo a rischio l'economia sta dimostrando di fare grandi sforzi per consentire alla città di avere una squadra di calcio che renda orgogliosa la città. Quindi ognuno deve dare il suo contributo affinché il nostro sogno possa realizzarsi. Il sogno del Cerignola, inutile nasconderlo, si chiama Serie C.